Musica Scoperta dalle fiamme gialle di Bra, una truffa sui contributi europei per la promozione di vini piemontesi in oriente, due denunciati. Musica Litigano e finiscono per sfondare la vetrina dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, è successo a Cuneo in via Silvio Pellico. Musica Dopo le gelate d'inizio primavera per la stagione frutticola, cali del 60%, prevista anche la diminuzione della richiesta di mano d'opera. Musica Dal 14 al 19 giugno torna a Peveragno Amicorti Film Festival, tutti d'accordo nell'indicare il cinema come una grande vetrina per il nostro territorio. Musica In apertura la pagina di cronaca, subito con l'operazione, è conclusa dalla guardia di finanza di Bra che ha scoperto una truffa su contributi europei per la promozione di vini piemontesi in oriente. Le due le persone. Denunciate i dettagli nel servizio. Una truffa legata a contributi europei concessi per la promozione di vini del territorio piemontese in oriente, in particolare in Cina e in altri paesi del sud-est asiatico. A scoprirla sono stati i finanzieri del gruppo di Bra. In particolare la vicenda riguarda un'associazione temporanea di imprese, Unati, che nel 2015 ha presentato alla regione Piemonte un progetto per attività promozionali riguardanti i noti vini piemontesi in Cina, grazie al quale ha potuto accedere ad un contributo di 170 mila euro, pari al 50% delle spese che dicevano di sostenere, circa 340 mila euro. Per portare avanti gli obiettivi previsti dal progetto finanziato, l'ATI ha documentato gran parte delle spese ammissibili con fatture emesse da un unico soggetto fornitore dei servizi promozionali. L'attività di polizia giudiziaria, basata anche su perquisizioni e sequestri, è supportata dall'intervento di ausiliari di polizia giudiziaria, sia informatici che esperti di lingua cinese, ha consentito di appurare che in realtà l'attività di promozione dei vini in Cina non è mai stata eseguita nel rispetto delle regole definite dal Bando Europeo. È anche emerso che tra il soggetto fornitore della promozione, l'impresa Capofila dell'ATI e un'altra impresa collegata, vi è stato un parallelo giro di fatture per operazioni inesistenti, emesse per altre prestazioni, estrane al progetto finanziato. Alla luce di tutto ciò, i militari braidesi, oltre a denunciare due soggetti, li hanno segnalati alla procura della Corte dei Conti del Piemonte per il danno erariale. Restiamo ancora alla cronaca, ci spostiamo a Cuneo, nel capoluogo di provincia, dove nella mattinata di oggi, mercoledì 26 maggio, si è verificato un brutto episodio in via Silvio Pellico. Nella zona dove spesso ci sono episodi di microcriminalità e che proprio per questo è posta sotto particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine. Nel corso di un litigio scoppiato tra due persone per futili motivi, uno dei due è finito contro la vetrina della sede dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, mandando appunto la vetrina in frantumi. Una lite nata per futili motivi è degenerata fino a mandare in frantumi la vetrina dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. E' successo nella mattinata di mercoledì a Cuneo, in via Silvio Pellico, in una zona della città, spesso teatro, di episodi di microcriminalità. Intorno alle 10, due persone hanno iniziato a discutere piuttosto animatamente per colpa di un caricabatterie. Uno dei due ha probabilmente accusato l'altro di averglielo sottratto scatenando la lite. Durante la discussione, uno dei due contendenti è stato spinto verso la vetrina della sede dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, sfondandola per dividere i due litiganti. Sono intervenuti alcuni passanti prima dell'arrivo di tre volanti della polizia che hanno riportato la calma, identificando successivamente le due persone coinvolte. L'uomo scagliato contro la vetrata è stato medicato all'ospedale Santa Croce, ma non ha riportato conseguenze gravi. All'interno dei locali dell'Associazione era presente in quel momento la presidente provinciale Alessandra Platone, che si trovava però in un ufficio retrostante. Fortunatamente nessuno era seduto sulle poltroncine posizionate proprio nei pressi della vetrina. In quel caso le conseguenze avrebbero potuto essere più gravi. L'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Cuneo, con ogni probabilità, spogge la denuncia verso l'uomo che, spingendo l'altro litigante, ha causato i danni alla vetrina. Ed ora, come ogni giorno, la pagina dedicata all'emergenza sanitaria. Andiamo a vedere insieme com'è la situazione in Piemonte, con i dati che ci arrivano direttamente dalla regione Piemonte, che vediamo in grafica. Partiamo come sempre dai decessi, 5 nuovi decessi in Piemonte, 1 in provincia di Cuneo, quindi vediamo che in questo senso cala l'incremento dei morti giornalieri. Possiamo proseguire con la situazione dei contagi, 350 nuovi contagi in Piemonte, 51 in provincia di Cuneo. E poi i guariti, 834 nuovi guariti in Piemonte, 151 quelli in provincia di Cuneo. Situazione dei ricoveri, qua c'è un leggero aumento rispetto al giorno precedente, rispetto a ieri, per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, 3 in più rispetto a quelli di ieri. Ma comunque negli ultimi giorni la tendenza era in calo. E poi invece continuano a calare i ricoveri in terapia non intensiva, 37 in meno. Anche le persone in isolamento domiciliare continuano a scendere, 455 in meno. I tamponi effettuati sono stati 19.550 oggi, 5.202 in meno rispetto a quelli effettuati ieri. Parliamo sempre di dati che riguardano la regione Piemonte. E una delle conseguenze dell'emergenza sanitaria, della pandemia, sono state naturalmente, come sappiamo, le chiusure, che fortunatamente sono però sempre meno, perché piano piano il Paese sta riaprendo in tutti i suoi settori. Devono però attendere fino al 1 luglio i circoli ACLI, che si sentono dunque penalizzati e discriminati e fanno sentire la loro voce. Il governo deve riconoscere il ruolo determinante per la ripartenza del Paese, dei nostri circoli, dell'associazionismo culturale, della socialità responsabile di prossimità e di chi combatte contro la solitudine e l'isolamento. Le ACLI provinciali di Cuneo non ci stanno e chiedono alla politica una risposta immediata alle disposizioni contenute nel programma delle riaperture del nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, in cui, per le attività di centri sociali, culturali e ricreativi, la riapertura è prevista solamente a partire dal 1 luglio. Una misura che contrasta con quanto disposto per eventi culturali, attività sportive, fiere, convegni e molto altro. Come può essere definita questa scelta politica se non come una inaccettabile e vessatoria discriminazione? Si chiede il presidente provinciale ACLI di Cuneo, Elio Lingua. Non si possono accampare motivazioni legate alla tutela della salute, visto che la possibilità di svolgere le stesse attività è concessa agli esercizi pubblici e agli operatori commerciali. L'accesso ai circoli è limitato ai soli soci e questo permette sicuramente un migliore controllo e una maggiore tracciabilità rispetto alle iniziative aperte al pubblico. Così prosegue il presidente a nome di tutta la dirigenza provinciale. Nonostante questo, le associazioni di promozione sociale e del volontariato continuano ad essere discriminate e penalizzate in modo inspiegabile. La pandemia, aggiunge il vicepresidente vicario delle ACLI provinciali di Cuneo, Paolo Giordano, ha lasciato soli e isolati tanti anziani e persone fragili che avrebbero bisogno di potersi ritrovare in luoghi di aggregazione, in sicurezza e invece sono costretti a prolungare la loro solitudine e chiusura. Le ACLI di Cuneo, che in questi mesi si sono impegnate per aiutare i loro circoli nell'adeguamento a tutti gli adempimenti di legge necessari per far sì che si trovassero pronti alla ripresa, chiedono ora con forza che l'associazionismo di promozione sociale e culturale possa ripartire subito e con i dovuti sostegni, anche perché i circoli senza partita IVA non hanno ancora ricevuto alcun aiuto. Nella mattinata di oggi, mercoledì 26 maggio, è stato rilevato un malfunzionamento sull'ascensore inclinato di Cuneo. Una squadra di tecnici è prontamente intervenuta rilevando un guasto elettronico non immediatamente riparabile. L'ascensore rimarrà quindi chiuso al pubblico fino a domani, a giovedì 27 maggio. Nel caso il guasto si rivelasse più complesso del preventivato, allora l'ascensore rimarrà chiuso di più fino alla completa risoluzione di questo problema. Parliamo ora di agricoltura dopo le gelate d'inizio primavera. Per la stagione frutticola si registrano cali del 60% ed è prevista anche una diminuzione, una forte diminuzione della richiesta di manodopera. La situazione delle gelate nel territorio verzuolese e saluzzese in generale qual è? Allora la stagione produttiva frutticola del nostro areale parte con un enorme deficit produttivo perché le gelate dell'inizio dell'aprile sono state molto molto impattanti. I dati e gli accertamenti dei danni sono ancora in corso ma abbiamo iniziato a veicolare le prime stime giunte dalle aziende agricole nei confronti della regione che poi dovrà occuparsi di elaborarle e trasferire anche al Ministero. Comunque sono danni importanti perché influiranno sul 60% della produzione totale con punte molto molto importanti su drupacee, quindi pesche, nettarine, ciliegie, albicocche e con punte ancora più preoccupanti sul kiwi già martoriato dalla batteriosi e dalla moria radicale. Quindi è una stagione che parte complicata ma solo a consuntivo potremmo sapere quali sono, quindi a stagione finita, quali sarà stato l'impatto di una notte soltanto su un settore così importante economicamente per la nostra zona. Oltre alle ricadute in senso stretto sul raccolto, quali saranno le ripercussioni invece per quanto riguarda i lavoratori stagionali? Chiaramente le ripercussioni ci saranno anche su questo tema, infatti è importante veicolare la notizia che ci sarà sicuramente una contrazione della richiesta, della domanda dell'offerta di lavoro. Per cui è importante che chiunque voglia mettersi in viaggio per raggiungere la nostra zona per avere un contratto nella stagione di raccolta, è bene che si informi prima e che si muova solo su una certa aspettativa di contratto e non su una vana aspettativa, una ricerca così sommaria perché quest'anno più di altri ci sarà sicuramente questa contrazione di offerta per cui molti potranno rimanere senza contratto. BRA avrà un nuovo plesso scolastico per l'istruzione secondaria superiore per oltre 900 studenti che sorgerà nel quartiere Madonna dei Fiori. Lo studio di fattibilità è stato presentato a BRA nel corso di una conferenza stampa congiunta provincia-comune nel cortile di Palazzo Matis. hanno partecipato il presidente della provincia Federico Borgna, il sindaco di BRA Gianni Fogliato con l'assessore ai lavori pubblici Luciano Messa, la dirigente dell'istituto scolastico superiore Guala Alessandra Massucco, il dirigente del settore patrimonio della provincia Fabrizio Freni e i progettisti dello studio quadro di Cuneo Andrea Breda e Mattia Gagliano. Il plesso avrà una capacità complessiva di oltre 900 alunni, sarà realizzata su quattro piani, fuori terra con una superficie lorda per piano di 970 metri quadri e complessiva di 3880 metri quadri. Inoltre è prevista una palestra di 850 metri quadri dotata di spalti e tribune e un'aula magna oltre a parcheggi e aree verdi. Il costo totale del progetto è di 9.500.000 euro. grande attenzione è stata posta al risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente. Ed ora parliamo di economia, in particolare del mondo dell'artigianato. Nuovo presidente di zona per la zona di Cuneo di Confartigianato Cuneo è Valerio Romana. Presidente Romana, neoeletto alla presidenza della zona di Cuneo di Confartigianato. Nel suo discorso di insediamento, l'intento di creare un consiglio di zona molto coeso e di collaborare nell'interesse dell'impresa del territorio. Sì, il mio obiettivo sarà proprio questo, di portare avanti un consiglio che sia proprio un consiglio unito che porti avanti delle cose a difesa degli artigiani e nuove proposte dagli artigiani. Questo che vogliamo dire. E poi il mio detto è poche parole ma tanti fatti. Questa è la cosa importante. E tutti insieme, il consiglio di zona proprio unito, tutti i rappresentanti delle proprie categorie devono essere uniti e portarci avanti tutte le varie problematiche che hanno per poterle risolvere nel migliore dei modi. Questo è l'importante. Nei progetti per il futuro, sicuramente la volontà di continuare il lavoro fatto negli anni precedenti, soprattutto di proseguire il rapporto e la collaborazione con gli enti e le istituzioni del territorio. Sì, certamente questo è una cosa che è già stata fatta. Io, essendo stato vicepresidente nell'ultimo quadrienne, abbiamo già portato avanti questi collegamenti con le istituzioni e con il Comune di Cuneo, la provincia, che sta ad ascoltare noi come artigiani e soprattutto la Confartigianato. Questa è la cosa importante. Nella sua squadra una forte presenza anche di donne e di giovani. Sì, questo mi fa veramente piacere. Abbiamo creato una squadra proprio unita con la maggioranza femminile. Questo è un fiore all'occhiello per la zona di Cuneo e soprattutto le donne stanno sempre di più entrando nel mondo dell'associazionismo e portando avanti le loro problematiche sia nell'azienda che anche per tutto quanto è la loro vita familiare. Una notizia di viabilità. Anas ha avviato oggi, mercoledì 26 maggio, il ripristino della pavimentazione sulla statale 20 del Colle di Tende di Valle Roia per un tratto di circa due chilometri tra Savigliano e Genola per consentire l'esecuzione dei lavori e attivo il senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 19. Il completamento dell'intervento di questi lavori è previsto entro la metà di giugno. Ed ora torniamo su un appuntamento importante, quello di Amicorti. Lo abbiamo già presentato nelle precedenti edizioni del nostro notiziario. Si svolgerà, tornerà a svolgersi in presenza a Peveragno dal 14 al 19 giugno. Ascoltiamo alcune parere, alcune dichiarazioni di chi tutti concordi, insomma parlano di un evento che può rappresentare attraverso il cinema davvero una vetrina per il nostro territorio. La Fondazione Cassati di Risparmio di Cuneo è sempre presente sul territorio, in questo caso attenzione all'attività culturale e un sostegno a un festival giovane che però ha già guardato orizzonti molto più lontani. Per noi della Fondazione la cultura è uno dei primari settori di investimento e quindi era giusto essere presente e dare un importante aiuto a questo festival che sta diventando molto importante perché se pensiamo che le immagini di Cuneo sono girate su tutte le televisioni greche è anche un lato turistico, quindi non è solo cultura ma anche turismo. Quindi ben venga, siamo felici che un piccolo paese come Peveragno abbia creato un volano così importante e noi siamo contenti di farne parte. Io ho visto quelli che sono stati filmati e fatti ed è stato fatto vedere molto bene quelle che sono le grandi priorità del nostro territorio, sono stati fatti vedere quanto è bello Cuneo, quanto sono belle le città all'Imitrofo e quanto è bello Peveragno. E quindi io sono convinto che i turisti pian piano torneranno e verranno a vedere le bellezze della nostra città e della nostra provincia. Le fondazioni, dicevo, di origine bancaria hanno svolto e svolgono sempre più un ruolo fondamentale nell'affiancarsi alle istituzioni, soprattutto in questo periodo di Covid, nel supporto alle iniziative, alla promozione, alla valorizzazione, all'organizzazione e alla visibilità del territorio. Quando si tratta poi di eventi artistici e culturali, di questa rilevanza, che vedono coinvolti non solo il paese di Peveragno, ma vedono coinvolti, e questa conferenza stampa ce lo conferma, l'intera provincia di Cuneo, il Piemonte, ma oserei dire riescono a inserire il Piemonte e l'Italia in una visione mondiale. Noi, infatti, come membri della giuria, insomma, abbiamo persone tipo Polaggins, Raul Bova, Gisella Marengo, veramente di primissimo piano, e io credo che il supporto delle fondazioni, in particolare della fondazione Cassa di Risparmio di Torino, a fianco, ovviamente, della fondazione Gemelli, di Amica, Cassa di Fondazione e Cassa di Risparmio di Cuneo, sia assolutamente doveroso. È un'opportunità che ci è stata offerta dall'Associazione degli Amici e abbiamo deciso di appoggiarla in pieno, di finanziarla e di dare tutto l'appoggio logistico, organizzativo alla manifestazione, anche perché per il nostro territorio si tratta di un motivo di crescita, di un'opportunità in un settore, la cultura, la settima arte, che per noi in questo momento non era ancora sfruttata, e abbiamo anche capito che è un settore che tutto sommato in provincia di Cuneo non è ancora sfruttato a dovere e quindi essere fra i primi che si lanciano in questo settore è importante. Spettacoli, un altro grande nome per l'Anima Festival, Antonello Venditti che sarà sul palco di Cervere il 6 luglio. Il cantautore torna ad esibirsi dal vivo con Unplugged Special 2021 e torna a Cervere dove era stato grande protagonista già nel 2019 quando aveva infiammato il pubblico con brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Dopo l'annuncio di Gianna Nannini, e questo è il secondo grande ospite dell'Anima Festival, appuntamento con Venditti il prossimo 6 luglio alle 21.30, prevendita dei biglietti dalle 16 di oggi, 26 maggio, su Ticket One, al via anche le vendite per Gianna Nannini in programma il 14 luglio. Il concerto è per Francesco De Gregori che invece si esibirà il 9 di luglio. Ci sono due grandi ospiti anche per un altro evento che si svolgerà in estate in provincia di Cuneo, il Nuovi Mondi Festival in programma in Vallestura dal 25 giugno al 4 luglio. Il filosofo Umberto Galimberti e il teologo Vito Mancuso. Galimberti sarà ospite della rassegna venerdì 25 giugno, terrà una conferenza dal titolo Le Ombre del Sacro, traendo spunto dal suo libro Cristianesimo, la religione del cielo vuoto. Il giorno dopo, sabato 26 giugno, sarà invece la volta del teologo Vito Mancuso che dialogherà col pubblico sul tema del senso della vita, partendo dal suo saggio a proposito del senso della vita. a costo per assistere agli eventi e di 10 euro maggiori informazioni anche per l'acquisto del biglietto sul sito www.nuovimondifestival.it. Questi due nomi si aggiungono per quanto riguarda Nuovi Mondi Festival a quello di Roberto Vecchioni, già annunciato, che sarà a Valloriate giovedì 1 luglio per presentare il suo libro. Grandi nomi dello spettacolo, della cultura, un grande nome del mondo dello sport è Elisa Rigaudo, l'ex marciatrice, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, e poi vincitrice di tante manifestazioni, piazzamenti importanti a livello europeo e mondiale, ed è madrina adesso che ha abbandonato da qualche anno le competizioni, e madrina di un evento, di un'iniziativa, la Sport Young 2021, un'iniziativa rivolta a giovani che si svolge ad Entracco, organizzata dallo Sciclub Alpi Marittime, in cui i bambini e i ragazzi possono svolgere diverse attività sportive. Ci presenta a questo evento l'organizzatore, il direttore tecnico dello Sciclub Amos Pepino, e poi sentiremo anche le parole proprio di Elisa Rigaudo. Lo Sport Young è un'attività dedicata principalmente ai bimbi, dal 2015 al 2010, quest'anno, un'attività multidisciplinare, quindi nel periodo estivo lavoriamo principalmente sugli sport classici di resistenza, quindi mountain bike, nuoto e atletica leggera, e poi nel periodo invece invernale si può passare alle discipline prettamente invernali, quindi sci di fondo, biathlon e sci di discesa. È molto semplice, i bambini vengono su nel nostro centro ad Entracque e hanno l'opportunità di avere un'attività continuativa sull'attività sportiva. È importante per i bambini e per i ragazzi iniziare a fare sport, praticare sport già da giovani, uno sport sano, pulito? Beh, sicuramente il fatto che la mia esperienza mi ha insegnato che proprio dalla multidisciplina sono cresciuta e anche a livello poi di atleta non ho avuto difficoltà nella carriera, proprio perché ero allenata sotto tanti aspetti. Io comunque parto da una base che era quella della scuola elementare, in cui avevo la mia maestra delle scuole, che mi ha insegnato l'atletica, ma non solo, quindi i nostri pomeriggi erano proprio pomeriggi dedicati in cui facevamo da tutte le attività che potevano essere quella di andare all'oratorio, piuttosto che andare nel nostro paese in bici, queste abilità io le ho allenate molto in questa età, nell'età in punto dei ragazzi dello sport young, e quindi nell'età delle scuole elementari. Effettivamente questo bagaglio qua poi me lo sono portato avanti e ha fatto sì che anche nella mia carriera gli infortuni non arrivassero, perché comunque ero stata, tra virgolette, ben allenata in questa età, che è l'età molto importante per cui allenare determinate abilità. E poi hai abbandonato le corse da qualche anno, come è stato, come stai vivendo questo periodo, sei in guarda di finanza, fai la mamma, anche insomma, come vivi questa nuova quotidianità, questa nuova vita? Beh, adesso sono già ormai quattro anni, quindi che ho smesso, quindi l'ultima Olimpia di Rio de Janeiro è già abbastanza lontana, però certo, i ricordi sono sempre vivi, anche le belle emozioni che comunque ho potuto provare, soddisfazioni che sono riuscita a raggiungere nella carriera. Questo me lo porto dentro e quando ho del tempo libero cerco di trasmetterlo ai ragazzi, dando una mano appunto sia nel progetto Sport Young che magari per quanto posso, più che altro per trasmettere l'impegno e la passione a dedicarsi a qualcosa, che poi comunque ti porta a raggiungere degli obiettivi, ma soprattutto a provare delle emozioni, no? E questi bimbi qua, vederli che comunque adesso stanno insieme facendo sport, e trasmetterle appunto questa passione qua per me adesso è una grande soddisfazione, ecco. Poi faccio la mamma, quindi ho l'impegno da mamma, però appunto i miei figli sono tutti e due all'interno dello Sciclub Alpi Marittime, e quindi mi fa piacere partecipare in forma mamma ma aiutante. E' tutto per questa edizione del nostro notiziario, grazie per averci seguito e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci! Autore dei sottotitoli a cura di QTSS